Sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020, riunito a Cagliari in seduta plenaria, i risultati ottenuti dalla Regione nella gestione del Fondo Sociale Europeo. Ai lavori dell'organismo hanno partecipato gli assessori al lavoro Virginia Mura e gli affari generali Filippo Spano. Sì, intanto è un momento importante perché siamo in una fase avanzata di realizzazione del piano e sono state anche riprogrammate alcune azioni proprio alla luce di quelle che sono le esigenze e le necessità che sono emerse nel corso di questo periodo. Ovviamente abbiamo fatto tesoro di tutte le misure sperimentali che abbiamo realizzato, soprattutto in tema di politiche attive. Alcune di queste le abbiamo rese strutturali e stiamo ovviamente realizzando tutti quegli altri programmi importanti previsti dal Fondo Sociale Europeo in terma di istruzione. Ricordo che la dispersione scolastica, pur avendo ancora un livello molto elevato, ha avuto un calo effettivamente importante grazie alle azioni messe in campo. Stiamo dedicando a tutte le azioni relative all'inclusione sociale, alla formazione professionale. Quindi diciamo stiamo vedendo un pochino il quadro di tutte le azioni svolte e soprattutto di quanto ancora dobbiamo realizzare e completare per dare risposte importanti alle persone che hanno necessità di questi interventi importanti. Ricordo che tra l'altro che il Fondo Sociale Europeo in molti casi, non sempre, ma in molti casi è l'unico strumento, l'unica risorsa finanziaria della quale noi disponiamo per creare le nostre politiche, le nostre misure. Quindi diciamo una giornata importante, va razionalizzato ogni centesimo di questo fondo per utilizzarlo al meglio e per dare risposte di qualità a più persone possibili.